Andiamo ora a conoscere il corbezzolo, una pianta che fruttifica e fiorisce in autunno, in particolar modo in ottobre, almeno qua in nord Italia. Una pianta che ha appunto questa particolarità, cioè di emettere fiori e frutti contemporaneamente. Proprio per questo motivo, dato che i fiori sono bianchi, i frutti sono rossi e le foglie sono verdi, è stato messo in correlazione con la bagniera italiana, perché ha gli stessi colori, bianco, verde e rosso, ed è considerato appunto un simbolo dell'Italia e della bagniera italiana. Allora, qua siamo nella famiglia delle ricace, quindi questa specie appartiene alla famiglia delle ricace e il suo nome latino è Arbutus unedo. Sembra che il nome, l'epiteto specifico unedo, significhi proprio mangiarne uno solo, perché in alcuni libri c'è scritto che darebbe una sorta di sensazione di ubriacatezza, ma sinceramente io non sono d'accordo, nel senso che a me piacciono tantissimo i suoi frutti, mangio tantissimi, mai avuto questa sensazione di ubriacatezza, magari. Ecco, questi sono i frutti, i frutti che sembrano delle fragole, infatti in inglese questo viene proprio chiamato anche albero delle fragole, guardate che belli che sono. Si mangiano quando sono belli rossi, sono molto morbidi, molto dolci, ma non un dolce stucchevole e l'interno la pasta è gialla, un bel giallo denso. E questi sono i fiori, qua sono ancora chiusi, ma poi saranno proprio queste campanule bianche. Ecco, questa pianta è interessantissima perché ha tantissime proprietà, proprietà sia nelle foglie che nei fiori che nei frutti. In particolar modo le foglie hanno un ottimo piottere schiarente sulla pelle, sulle macchie della pelle. Infatti, un paio d'anni fa mi sembra, ma magari ve lo metto qua sotto, il link, avevamo fatto un acetolito schiarente proprio per le macchie della pelle. Non solo, le foglie contengono tantissime sostanze che sono utilissime per le cistiti, quelle croniche, quelle ricorrenti. Si prepara in quel caso la tintura madre, con una gradazione alcolica di 65 gradi. Se volete, vi metto proprio la ricetta, magari nella sezione abbonati. Sempre con le foglie si può fare un infuso, anche con i fiori. Invece i frutti vi consiglio di semplicemente mangiarli. Oltre a mangiarli potreste fare delle confetture. Io le ho proposte in diversi liquori, nelle grappe. Ho fatto anche un aceto, partendo proprio dai frutti e dalle foglie. Un aceto molto buono. Molto acido, ma molto molto buono. Eccolo qua. I frutti, tra l'altro, contengono tantissima vitamina C, quindi vi consiglio di raccoglierli dalla pianta e, per evitare di perdere la vitamina C, che si ossida molto facilmente, di mangiarli subito. Eccolo qua. E' una pianta che tipicamente è legata all'area mediterranea, quindi in tantissime zone cresce spontaneamente. Qua al nord spesso viene piantata proprio per la sua bellezza, la sua estrema bellezza, nei giardini. E' una pianta, io penso, veramente magnifica. Eccolo qua. Quindi questo è il corbezzolo. Eccolo qua. Eccolo qua. Grazie a tutti.